Ma tu sai che chiedo il prete? Sì, sono io! Ma mi ha detto che hai fatto un libro! No, due! E di che colore? Uno è rosso e uno è nero! Lo presentiamo al TV Game Show numero 9? Cavolo subito! Guardiamo! Adesso! Adesso! Mi amo! Vai dai vai 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 vai! Grazie a tutti!